Seconda parte di mattino 6, adesso siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani regionali partendo con il centro in cui ritorna con una doppia pagina la questione dedicata alla rete internet, al wifi libero sulle spiagge abruzzesi. Quindi spiagge senza rete, sospeso il wifi libero, beffa per 18 comuni. Il bando della regione durava 3 anni ed è scaduto all'inizio dell'estate, molti problemi ereditati e da superare. Lolli, vicepresidente della regione Abruzzo, dice risolveremo il caso. E poi c'è una lista dei comuni che vennero finanziati nel 2013-2014 e come potete vedere dallo schema ci sono tutti i principali centri che vengono affollati durante l'estate. Non fosse altro perché sono rivieraschi dai turisti e che quindi adesso potrebbero avere qualche piccolo problema se dovessero navigare. Evidentemente ci si potrebbe affidare al proprio gestore telefonico. Insomma potrebbe non essere una spiaggia smart. Milano invece guida la classifica, è la prima smart city seguita da Roma e da Firenze che chiude il podio per le città che hanno più sistemi multimediali e disponibili attraverso una connessione cittadina. Giovannelli che dice la chiave di accesso dovrà essere unica, il turismo va programmato bene, da noi invece ogni centro fa da sé. Parla l'esperto, il presidente del Corecom Filippo Luci, comunicazioni, noi fermi al secolo scorso, niente banda larga e wifi. I paesi delle aree interne pagano il prezzo più alto rispetto già a quei comuni che vi abbiamo fatto vedere che sono dislocati lungo la costa. Il presidente del Corecom dice che molti di questi centri non avranno mai il segnale. E poi andiamo avanti per vedere l'apertura della prima pagina Abruzzo. Ombrelli roventi, qui il mare c'entra davvero poco, piovono polemiche sulla fonderia di D'Alfonso. Il caso delle hostess che riparavano sei uomini sul palco, tra cui il ministro De Vincenti. Indignata Gemma Andreini, pare opportunità regionale, forse le palme erano finte. Andiamo anche a leggere il pezzo, secondo lo slogan istituzionale, doveva essere il laboratorio di idee nuove, visioni per il futuro della regione Abruzzo in Europa. Peccato per quelle cinque ragazze in piedi, con gli ombrelli aperti, a riparare prima dalla pioggia e poi dal sole sei uomini comodamente seduti a discutere. Per molti una caduta di stile che ha fatto precipitare Fonderia Abruzzo, la due giorni promossa dalla regione a Sulmona, nel mare delle polemiche. Questa è la foto riproposta con le ragazze con gli ombrelli che riparano quelli che sono i relatori. Tra questi, come detto, c'è il governatore Luciano D'Alfonso e il ministro Claudio De Vincenti. Poi vediamo alcune reazioni. Maria Amato, con tutto il rispetto, questa foto non si può guardare neanche le geisce di nipponica memoria. Santa Maita, la risposta. Le quattro ragazze si sono attivate autonomamente. Questa, dice, è una non notizia. Cambiamo giornale adesso per vedere come in realtà anche sul messaggero c'è questa polemica. Eccola qua, Fonderia e polemica sugli ombrelli. Delle ragazze hanno riparato D'Alfonso e i relatori sul palco scoperto al mattino dalla pioggia battente, al pomeriggio dal sole cocente. Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle dice questa è la considerazione per il gentil sesso. Insorge la coppola del Partito Democratico. Nel mio partito, dice, nessuna donna dirà nulla. E allora il presidente D'Alfonso si è giustificato su Facebook con un post, buttandola sull'ironia, nell'apprendere di queste polemiche per la prossima edizione di Fonderia Abruzzo. D'Alfonso ha eronicamente pensato ad un capitolato d'appalto nel quale si è prevista una voce riguardante i portatori di ombrelli in caso di sole e di pioggia. Scrive in una nota il suo portavoce Santa Maita. Tutti rigorosamente di sesso maschile. Il presidente è anche confidato, disponevo di un cappuccio nella giacca, ma non l'ho usato per non passare per affigliato alla massoneria. Scherzi a parte, la natura strumentale di questa polemica è lampante. I commenti di chi ha visto, dice ancora D'Alfonso, in questa vicenda un affronto alla parità di genere, sono davvero fuori luogo. È chiaro che è una questione destinata a far discutere ancora per un po'. Torniamo però adesso sul centro per andare avanti nella lettura del quotidiano. Le frecce tricolore incantano vasto. Ieri la spettacolare esibizione della pattuglia acrobatica che ha tirato la volata ai turisti. Davvero sempre spettacolo eccezionale, quello delle frecce tricolore sulla costa vastese. certamente è stato uno spettacolo di altissimo profilo, come di consueto d'altronde per le frecce tricolori. Torniamo adesso sui saldi di notte. Le vendite nei negozi, più 20% in una sera. Siamo a Pescara ovviamente. Le associazioni dei commercianti fanno un bilancio del sabato di shopping. La stagione degli sconti è partita alla grande e allora l'assessore Cuzzi dice adesso altre iniziative. Sempre a Pescara, folla alla processione di San Cetteo. Conclusi i festeggiamenti estivi in onore del patrono della città e della cattedrale. Ma torniamo sulla notte dei saldi, perché c'è anche in questo caso una polemica. Il centro chiuso alle auto, ma nessuno lo sapeva. Il comune dimentica di comunicare i divieti di transito durante la manifestazione. E Guerino Testa va all'attacco. E la solita approssimazione, dice, di questa amministrazione. I locali di Via Battisti, in basso, si dettano le regole. La Confesercenti, pronto un codice di autoregolamentazione. Ma la Movida non si può spegnere. Vediamo, facendo un salto ancora sempre sul messaggero, perché la notte dei saldi è l'apertura anche della pagina di Pescara del messaggero. Notte che riempie le piazze e porta ricchi incassi. Commercianti e assessore Cuzzi soddisfatti. Tutto merito della sinergia tra associazioni ed eventi organizzati. E poi Cronaca, restando sempre sulla pagina del messaggero, il furgone dei ladri di motociclette caricano e fuggono, arrestati in due. Sono senegalesi. Dopo l'allarme, il loro Ducato inseguito dai carabinieri fino a Montesilvano. Poi purtroppo Cronaca, frontale da brivido sulla tangenziale. Tre feriti, due sono in gravi condizioni. Strade di sangue preoccupano le condizioni di una donna di 33 anni. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Chiudiamo adesso questa pagina per tornare sempre sul centro e andare avanti con la lettura. Lettura, tornando appunto alla cronaca, schianto tra auto, gravi i due conducenti. I mezzi viaggiavano in direzione opposta all'altezza di San Silvestro. Uno dei due veicoli è finito sopra il guardrail. Vedete nelle due foto certamente la ricostruzione abbastanza cruenta di quanto è accaduto. Rubano lo scooter con un furgone Montesilvano, il punto in cui poi sono stati raggiunti. Arrestata una coppia di ladri dopo un inseguimento dei carabinieri. In basso, approvato il progetto, strada delle Fornaci si amplia via al parco Corigiochi. E poi, presentata la proposta al comune di Pescara, via Calderone va raddoppiata. Può diventare una strada di accesso alla parrocchia e questa è la strada che dovrebbe essere ampliata. A Montesilvano sfiorata la rissa al corteo contro i bivacchi in Pineta. Montesilvano, momenti di forte tensione durante la protesta del Comitato Cittadino. Alcuni senza tetto si sono opposti all'intervento di bonifica ed è scoppiata una lite. A centropagina tua, ticket unico per cinque comuni. E poi vedremo che la questione trasporti sul messaggero troverà spazio in un'altra veste. San Valentino, capofila di un'istanza per tutelare i pendolari dell'area interna. Domani a Francavilla, in prenditoria, nasce il terzo gruppo BNI. A Penne ci spostiamo nell'area Vestina. La mostra sulla storia dei comuni aperta fino a lunedì. Penne entra a far parte del progetto Terra Autentica. A Pescar, via il Festival della Melodia, a partire da mercoledì alle 21.30. Andiamo avanti. Associazione Alumni in 200 da tutta Italia per la maxicena degli ex del Classico. Festa all'Alcione. C'era anche la signora Prosperi, 95 anni. Il prossimo appuntamento a Natale con un concerto, evidentemente, natalizio. Lo chef Gianfranco Vissani, ospite d'eccezione alla chitarra antica, ovviamente, grande chef Gianfranco Vissani. Il 5 luglio, Festival della Melodia Alvia, la partenza da Piazza Salotto. A Chieti, paura in alto mare. Bimba rischia di soffocare, salvata dal 118. Sul traghetto con la famiglia, la piccola vastese di 20 mesi ingerisce per sbaglio un gioco. L'elisoccorso atterra sulla nave. Sempre a Chieti, auto si ribaltano. Otto feriti sull'asse attrezzato, incidente nella notte. Vediamo come, cambiando anche in questo caso foglio, questa notizia la ritroviamo anche sul messaggero. Eccola qua, schianto sull'asse attrezzato, otto feriti, due sono bambini. L'incidente sulla strada delle vacanze. La famiglia era appena partita con destinazione la Sicilia. Volate fuori strada le due auto coinvolte. Un miracolo che siano usciti tutti vivi. Ad Ortona la proposta di D'Alessandro, consigliere regionale, zona economica speciale per il porto. Di spalla, terminal bus, si chiude l'appalto per i tunnel. Giorno della verità per conoscere le offerte pervenute per mettere in esercizio l'opera entro 180 giorni. In basso, a Lanciano, appello del maestro Renzetti, salvare i corsi musicali EMF. E poi torniamo sulle emozioni che ci sono state a basto per le frecce tricolore. in 100.000 al mare nella città alta e a San Salvo per l'esibizione firmata. Costiera dei Trabocchi. Anche in questo caso una foto che racconta questo spettacolo aereo bellissimo, delle frecce tricolori, nel cielo di Vasto. Torniamo sul centro adesso per andare a L'Aquila. Toto Assessore, ovviamente dopo le elezioni adesso c'è la corsa alla giunta, i vari incastri e ovviamente gli incastri definibili sulla base delle varie deleghe e probabilmente la più delicata, la più ambita all'Aquila è quella sulla ricostruzione. E la terrà il sindaco eletto, ovvero Pierluigi Biondi. A Liris invece, Guido Liris, avrà la poltrona di vice sindaco. Tinari, candidato numero uno alla presidenza del Consiglio Comunale. Entro venerdì l'esecutivo Fratelli d'Italia dovrà fare un passo indietro. A Forza Italia tre o quattro assessori. Rimane il nodo dei salviniani. Marulli, asso casa UGL, scrive a Biondi lettera da suocero a Genero sulle case Ater. Sempre in provincia, in questo caso dell'Aquila, ad Avezzano. Ecco le nuove leve pronte a governare. Viaggio del centro tra gli esordienti in Consiglio Comunale. Ovviamente uno spaccato che va da destra a sinistra. E vediamo all'Aquila, andando sul messaggero, cambiando giornale anche in questo caso, perché c'è all'Aquila invece, c'è più che altro cronaca cittadina, vandali padroni del centro scritte sui muri e degrado. A farne le spese stavolta il muro di recinzione appena ristrutturato lungo via della Genca. si torna a chiedere l'intervento in parallelo di installazione di telecamere e stop al degrado. Sempre all'Aquila, ovviamente dopo la sconfitta, oggi vertice per il Partito Democratico, la pezzopane risponde a Pietrucci. E ovviamente le cose in casa centrosinistra all'Aquila dopo la sconfitta, certamente ci sarà molto da riflettere. Città allagata, sempre all'Aquila, al primo vero acquazzone estivo. Abbiamo visto ieri che c'è stato parecchio maltempo, oggi è un tempo decisamente differente. Città divisa in due a causa di un severo rovescio di pioggia e di grandine, che si è abbattuto in particolare sulla zona est a ora di pranzo. Nella zona ovest, invece, in particolare a Pettino, non vi è stata neanche una goccia di pioggia. Dunque, una città, l'Aquila, divisa in due dalle condizioni meteorologiche. Parco scientifico e tecnologico. I vertici devono risarcire la regione. Così hanno stabilito i giudici della Corte dei Conti dell'Aquila. Trasporti, biondi avvisa ad Alfonso, non pezzi di escludere il capoluogo. Il neosindaco fa un appello al governatore della regione, proprio in relazione a quei due giorni di incontri, che era la Fonderia Abruzzo, in cui ha partecipato il governatore insieme al ministro De Vincenti. Andiamo avanti, andando sulla pagina di Teramo, sempre nel messaggero. Poi ci andremo anche con il centro. E vi avevo già anticipato che la questione dei trasporti sarebbe tornata, ma in un'altra dimensione. Pullman rotti e tanti disagi, monta la rabbia dei pendolari, continue segnalazioni di avarie negli autobus, dei servizi extraurbani da parte degli utenti, un avvocato, tre disguidi in dieci giorni, di cui uno delicato nella galleria San Rocco. E certamente non è il massimo un'avaria all'interno di una galleria. La paura. Bimba chiusa nell'auto, arrivano i vigili, momenti di preoccupazione sono registrati. Ieri mattina, con l'atterrato alto, sempre a Teramo, per una bambina di due anni, rimasta rinchiusa inavvertitamente dentro un'auto situata in un garage. Erano le 9.30, quando i genitori avevano collocato la bimba nell'apposito seggiolino dalla parte del passeggero. Una porta chiusa all'improvviso, le chiavi sono rimaste agganciate al cruscotto. Un attimo di smarrimento, poi la chiamata ai vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare, per fortuna, all'interno del mezzo. A Tortoreto, post elezioni, questa è una notizia un po' curiosa, primo consiglio comunale e già si spacca l'opposizione. Commissione di vigilanza e vicepresidenza rifiutata, perché in disaccordo sul nome da proporre. Touring Club, il tratto di costa tra Pineto e Silvi, dice, la guida è il più bello. Mare Doc, il tratto di mare Teramano che include i comuni di Pineto e Silvi, e il più bello di Abruzzo, l'ennesimo riconoscimento da parte del Touring Club italiano. Giulia Rete, ci spostiamo a Giulianova, bilancio ok, i consumi sono in calo. Ha provato il bilancio consultivo di Giulia Rete, la partecipata al Comune, che si occupa di gestione e manutenzione della rete del gas metano, sul territorio comunale, ovviamente, di Giulianova. In basso, alcolici negati, scoppia la rissa allo stabilimento, rissa con due feriti ieri mattina allo stabilimento Baleare Malibu, ubicato sul lungomare monumentale. Due avventori sarebbero entrati in contrasto con il gestore e il bagnino dello chalet dalle parole. Come purtroppo spesso a capita si è passati subito ai fatti. E questa è una notizia che ritroviamo se cambiamo giornale. Andiamo sul centro, che invece ne fa l'apertura della pagina di Terra, mollite per una birra di troppo, in caserma due ultras giuliesi. Erano già al Ticce il gestore dello chalet Malibu. Si è rifiutato di servire una seconda bottiglia. Intervento dei carabinieri. Giulianova, auto, non si ferma lo stop e investe una moto. Ferito il centauro. Questo incidente spettacolare, ma per fortuna, senza gravi conseguenze, all'altezza del civico 67 di via annunziata, che vedete nella foto. Di spalla università ha creato il naso elettronico per valutare l'olio d'oliva. Torna la notizia della bimba che è rimasta intrappolata nell'auto, salvata dai vigili del fuoco. I genitori lasciano la chiave dentro e le portiere si bloccano. E poi la questione di Samira Lupidi, che avevamo ritrovato in prima pagina, che uccise le figliolette, per ora resta in Inghilterra. I familiari di Samira, 25 anni di Martinsicuro, non chiederanno l'estradizione perché è in una struttura protetta. Il padre Dario è andato a trovarla per la seconda volta dopo la condanna all'ergastolo per questo duplice omicidio. Apriamo la pagina di sport, lunedì sport del centro, 3 luglio 1977. Il Pescara è in Serie A, 40 anni fa la prima storica promozione dei bianco-azzurri nella massima serie. A proposito di Amarcord per la Lega Pro, Simone Motta che dice Teramo ti auguro di arrivare in Serie B. Queste sono le notizie principali. L'Aquila, la cessione entro giovedì, Sassarini a San Nicolò, il Real Giulianova in eccellenza, un passo da Aquino. Il Chiedi, Blinda, Felli in prima categoria, a Lanciano del Grosso che dice Lanciano ti voglio combattivo per arrivare in alto. E poi per il basket, May vota Roseto Sharks, mi piacerebbe rimanere proprio a Roseto. E poi Iannone Giù sui social Belen nel Mirino, il pilota vastese. Purtroppo altro risultato negativo in Germania, il Gran Premio di Germania. Il Rugby Serie A, il campionato è a rischio. Beach Volley, l'Ortorese Nicolai è secondo al Major Croato. Allora entriamo proprio sulle pagine dello sport del centro. 40 anni fa la prima volta del Pescara in Serie A. A Bologna i Biancazzurri pareggiano a reti bianche contro l'Atalanta raggiungendo lo storico traguardo. E poi ovviamente ci sono, questa è la foto di quel Pescara in cui si riconoscono Nobili, Vincenzo Zucchini, Giorgio Repetto. Che poi hanno rilasciato anche delle dichiarazioni sul quotidiano. Nobili, il talento, era il talento. Emozione unica, un giorno di festa per tutti gli abruzzesi. Dovevo andare al Genoa ma la cessione saltò, le prime tre partite le guardai dalla panchina. Poi Cadet, il timoniere di quella squadra, mi diede fiducia all'arretramento in difesa di Galbiati. Fu una grande intuizione. Addirittura qui c'è la pagina delle figurine che raffigurano, le figurine panini che raffigurano quel Pescara del 1976-77. Repetto, l'anima del centrocampo, che bel gioco con Cadet, era un fuoriclasse della panchina. Dice l'ex direttore generale del Pescara, ex bandiera del Pescara, attuale direttore sportivo del Teramo, ci volle un po' per capire i suoi schemi. Ma poi giocavamo un calcio divertente ed offensivo. Quante emozioni ricordo la parata con le auto dallo stadio sino a Piazza Salotto. Il ricordo del giornalista, così lo stadio adriatico scoprì il calcio spettacolo di Antonio De Leonardi, su una squadra nata dopo il no del trap. Caldora da presidente a beniamino dei tifosi. Questa è la foto proprio dell'ex presidente Caldora. Andiamo adesso sulle tematiche attuali del Pescara in pieno calciomercato. Ransford Selasi dice Pescara ora sono pronto per restare. La mezzala rientrata dal prestito al Novara vuole rimanere con Zdenek Zeman. Lunedì si parte per il ritiro di Rivisondoli. A Castel di Sangro c'è il Foggia. E poi oggi e domani Summit con Udinese e Juventus. Con i friulani si parlerà di Coulibaly e Zampano. In realtà su Coulibaly la trattativa è quasi chiusa di fatto. Attesa per Gans, la società spera nel sito di Pessina. Si lavora per trovare una sistemazione ai calciatori tornati per fine prestito. La regina ha chiesto informazioni su Benzaia, Bulevardi e Mancini. Quest'ultimo piace anche al Pineto. Scendiamo in Lega Pro. Motta, Simone Motta, Passione Teramo. Ci ripenso ancora. Bomber della stagione 2002-2003. L'attaccante legato a vita ai Biancorossi. Che peccato, dice quella B sfumata. Pepe, Simone Pepe. Era un fenomeno già a 19 anni. Ma alla volta i Zecchini, grandi personaggi, vi auguro di rivivere le emozioni di quella nata magica e di riprovare la scalata. Andiamo sulle questioni che riguardano il Lanciano. Del Grosso vuole un Lanciano da combattimento. Mai dare nulla per scontato. Bisognerà calarsi nella categoria e lottare. In settimana dovrebbero arrivare due acquisti. E poi sempre per il calcio. In Serie D. Tra poco passeremo anche sul Messaggero per fare una disamina del calcio delle Abruzzesi. Del calcio mercato delle Abruzzesi. Però intanto il direttore sportivo della Vastese, il neo direttore sportivo della Vastese, Francesco Micciola, rivela. Menna e Stivaletta sono i nostri punti fermi. Non sforiamo il budget. Ripartiamo dai giovani e dal capitano Nicola Fiore. Campagna e abbonamenti. L'obiettivo è quello delle 500 tessere. Sempre in Serie D. L'Aquila entro giovedì. Ogni momento potrebbe essere buono per la cessione delle quote. Il Pineto prepara altri colpi dopo Napolano e Pezzotti. Nero Stellati Prato la caccia di giovani per la squadra Juniores Nazionale. A Vezzano nel mirino di Paris ci sono Tarantino e Rabbeni. Invece San Nicolò il primo rinforzo di Campanile è Umberto Sassarini che è stato anima del centrocampo dell'Avezzano che il neo DS del San Nicolò Stefano De Angelis ha rivoluto con sé anche in questa nuova esperienza in bianco-azzurro. In eccellenza le big della prossima stagione. Real Giulianova a caccia del bomber. Si stringe per Aquino. Il chiedi Blindafelli presi Ricci e Leone si valuta Persia. Molino a Martinsicuro. Francavilla è un rebus. Il Montori 88 prende Alessandroni e punta Di Sante. Promozione Bizzarri confermato a Fontanelle. Cambiamo giornale. Poi torneremo sul centro per gli altri sport. Però vediamo invece Abruzzo Sport del Messaggero che apre con un'intervista al giocatore dell'Empoli. Ma Rosetano, Daniele Croce, voglia di ricominciare. A 35 anni l'ex pescalese lascia l'Empoli e i tifosi si ribellano. Non avrei mai immaginato tanto affetto da parte della gente. Il Pescara, se avesse vinto contro di noi, poteva ancora farcela. Zemana è l'ideale per ripartire, ma ripetere il miracolo è difficile. Intanto il presidente Sebastiani prepara l'affondo per Guns, in cui in questi ultimi giorni c'è stato l'inserimento, lo sapete, del Palermo. Moto mondiale. Iannone cade pure in Germania. Ora è crisi nera. Il Vastese a cinque giri dalla fine era in lotta con Lorenzo per agguantare l'undicesima piazza. In Lega Pro a Teramo, Asta scalpita. Voglio ricominciare. L'allenatore non vede l'ora di iniziare il ritiro ad Alfedena. Le indicazioni al DS Repetto. L'idea è quella del 4-3-2-1 con una prima punta centrale e due giocatori alle sue spalle. Peraltro domani pomeriggio dovrebbe essere presentato il nuovo direttore generale Biancorosso Capaldi. In settimana per il mercato altre novità per Candido e cosa fatta. Chieti confermato felli. Arrivano nuovi under. È fatta per Leone il Teatino Ricci. Giovanili, nuovo staff. Giulianova spunta a Quino, ma il sogno sarebbe un ritorno quello di Dos Santos che ha giocato non solo a Giulianova ma anche a Chieti. Francavilla invece. Ancora una fumata nera per la società. Una situazione societaria che stenta ancora a sbloccarsi. All'Aquila sono ore decisive per il passaggio del club. Attesa per il trasferimento delle quote ai nuovi imprenditori e la definizione dei primi accordi con staff tecnico e calciatori. Il Capistrello sceglie Iodice tanti colpi per lo spoltore. Lava stese, ecco due punte. Il difensore Menna arriva pure Camerlengo. Il portiere pescarese proviene dalla Berretti del Venezia. Lega Pro, ma di fatto promossa in Serie B. Alfedena ospita il triathlon dei Sanniti per l'atletica Gaia Sabatini. Terza sui 1.500 agli assoluti. Mammarella pronto calcio a 5 per una stagione super. Il portiere dell'Acqua e Sapone si sottopone oggi ad un intervento di pulizia al ginocchio già previsto. Intanto la società annuncia la conferma di Lima. E invece Pescara saluta Cimanghigno, confermati i portieri. Sempre per il calcio a 5. Pallavolo si è cortona. L'organico può dirsi completato. Trofeo delle Regioni. La prossima edizione si svolgerà in Abruzzo. Saliamo Cataldo. C'è un pezzo di Abruzzo al Tour de France. Saranno settimane durissime. La Stana punta alla vittoria ovviamente con il nostro Fabio Aru. Beach Volley, Lupo e Nicolai secondo nel torneo di Porez. Cambiamo giornale per leggere, per chiudere con il basket. Abruzzo a canestro. May, restare a Roseto è un sogno bellissimo. Gli Sharks in ritardo sul mercato pensano al ritorno della Guardia che l'anno scorso ha fatto bene. Giulianova prepara il roster. Ricci verso la riconferma. Chieti invece ha ancora 5 giorni per agganciare la Serie B. Marchesani non è ancora riuscito a trovare un titolo sportivo. Insomma, sono giorni delicati anche per il Chieti retrocesso dopo l'ultimo campionato. È davvero tutto per questa edizione di Mattino 6 che torna domani puntuale alle 8. Per i prossimi appuntamenti legati alla informazione di TV6 vi rimando alla prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14. Buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!